Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Affronteremo una sfida tra classi sociali, conflitti religiosi, intreghi politici, controlleremo e assegneremo ai nobili il regno della nostra città. Vi farò vedere qui il tutorial perché sembra essere un'autentica figata. È tradotto in italiano, tra l'altro sembrerebbe anche molto bene, ma lo saltiamo perché andiamo abbastanza di fretta perché vogliamo divorarlo questo tutorial perché secondo me può piacere a molti di voi. Mi ero già reso conto che il gioco era piuttosto intrigante dalla demo, ma ho aspettato che il gioco uscisse ufficialmente. Non so dirvi ancora il prezzo perché il gioco non è ancora uscito, però lo proviamo adesso. Il compito è quello di aiutare la famiglia nobiliare che governa. Qua in alto li vedete, c'è il re e gli altri. Praticamente Stefanomir è il re, Lado, che è una donna immagino, è la coniuge di Stefanomir, e questo è un altro tizio, penso che potrebbe essere anche il figlio, il principe. I nobili obbediscono ai tuoi ordini, ma hanno anche una volontà propria. La storia è solo all'inizio. Questo è il villaggio. Usiamo i tasti Vazda. Vabbè, qui non c'è nulla da dire. C'è anche il più e il meno o la rotellina del mouse per zoomare. E possiamo andare con 1, 2, 3 ad andare a accelerare o a rallentare il tempo. E con lo spazio mettiamo in pausa, ovviamente. Sebbene posso impartire ordini diretti solamente ai nobili, tutti i personaggi in Norland hanno pensiero ai bisogni. Praticamente noi selezioniamo questo nobile e vedete che qua possiamo vederne i dati. Morale, lealtà. Tra l'altro, un nobile potrebbe, se scende sotto i 25 di lealtà, diventare un fuori legge, insomma. E qua vedete i bisogni. Tra questi bisogni ce ne sono alcuni, cioè ce n'è uno soprattutto che è questo, che non posso pronunciare probabilmente. Però sono gli incontri romantici. È una abbastanza novità, diciamo, in giochi di questo tipo. Però principalmente ci sono i bisogni soliti. Controlleremo solo una famiglia e praticamente ogni nobile dovrà gestire, dovrà fare l'amministratore di alcuni edifici. E in media ogni nobile ne gestisce circa 7-10. Praticamente noi cliccando sul salone abbiamo modo di impartire gli ordini e quindi nominare un amministratore che andiamo a scegliere ed è Lado, la moglie, la regina, insomma. Attendi che il lavoratore, cioè che vengano dati gli ordini ai lavoratori. Infatti, i lavoratori si stanno riunendo qui. Adesso Lado, credo, che l'abbiamo assegnato, quindi dovrebbe andare a dare gli ordini. Se non lo sta già facendo. Ok, non lo sta facendo adesso. Vedete che se andiamo qua, praticamente ci dice, qua vabbè si sente anche parlare sotto, si sentono linguaggi incomprensibili un po' sullo stile di The Sims. E praticamente sta spiegando le direttive del villaggio. Ora andiamo a costruire la segheria. La segheria è importante perché ci consentirà di raccogliere il primo legname. Con il tasto destro del mouse, torniamo indietro e costruiamo un campo di rape. Quindi costruiamo il campo di rape qui. Praticamente possiamo accelerare il tempo. Dobbiamo costruirlo su un terreno ovviamente fertile. I lavoratori sono stati istruiti. Sì, perché ormai Lado è lì da sola. E stanno iniziando a costruire. Io accelero un pochino il tempo in modo da farvi vedere tutto. Prendete la segheria è pronta. E ora inizieranno anche con l'allestimento del campo di rape. Le rape sono strettamente legate anche alla produzione di liquore. E a breve andremo a vedere. Perché ha delle meccaniche veramente fighissime questo titolo Norland. Allora, graficamente è una versione molto più bella di Rimworld. Comunque i lavoratori serviranno degli ordini. Maggiore l'abilità di amministrazione del nobile, più prodotti agenti riprodurranno l'edificio. Ok, quindi praticamente noi non abbiamo in gestione la taverna, la taverna, la segheria. Quindi lo selezioniamo e assegnere un amministratore. Quindi possiamo andare, vedete qua c'è la miglioria, spedicci le merci prodotti, insomma nomi di amministratore. E qua vedete che ci sarebbe Drus Vlad, che è questo in mezzo, che praticamente ha una gestione ottima più di lado. E quindi lo assegno a lui. Infatti ci diceva anche che era già stato assegnato a un altro lavoro. Come vediamo qua. Vedete che sono già assegnati a un lavoro entrambi. Se ne occuperà anche lui del campo di rape. Quindi lui, vedete, sta andando e dà le direttive. Con questo gesto un po' così, ma insomma sta dicendo si fa così, si fa così, si fa così. Dovete produrre, dovete portare al magazzino centrale. E fine. Questo è... Si può nominare anche rapidamente cliccando col destro e sostituire l'ispettore, insomma. Però in questo momento lo teniamo così com'è. Attendiamo. Ok, abbiamo avviato la produzione di cibo. Ora occupiamoci degli alcolici. Perché da sapere c'è che un cittadino consuma un'unità di cibo e un'unità di alcolico al giorno. Ma viene al contempo, questo ce lo dirà il tutorial dopo, ma inizio già a mettere le mani avanti, se no andate via, dovrà guadagnare abbastanza per poter soddisfare i suoi bisogni. E quindi se i prezzi sono troppo alti e non se li può permettere, sicuramente si troverà male. Ora diciamo di produrre fino a X e quindi diciamo di produrre fino a 100 rape. Lui ci sta dicendo ne hai già 50, quindi il tuo campo porterà avanti la produzione fino a 100, quindi di altri 50. Ora chiudiamo la produzione e nominiamo un amministratore nel birrificio. Quindi questo è il birrificio. Vedete che possiamo cliccare qui o premere col destro. In questo caso lo diamo ancora a questo perché ha un'ottima produzione. Una volta ricevuti gli ordini, i lavoratori si metteranno all'opera. Durante la giornata, mentre alla sera si dedicano alla loro vita personale, ricevono il compenso, acquistano merci e bevono birra. Praticamente qua, idealmente ogni personaggio consuma un'unità, come vi dicevo, un'unità di cibo e una di alcolici. I nobili ricevono cibo e alcolici gratuitamente presso il salone, che il salone è questo che abbiamo visto prima. I popolani guerrieri acquistano cibo e alcolici ogni sera al mercato e alla locanda. Puoi gestire i compensi. Infatti se clicco qui, mi va ad aprire tutta questa schermata che adesso è coperta dal tutorial. Praticamente lui ci dice, guarda, puoi regolare i prezzi, però tieni conto che un lavoratore prende 8 monete al giorno, le rape, che è il momento l'unico cibo che abbiamo, costa 4, se fai pagare 7, costa 11 in totale, loro guadagnano 8, quindi non sopravvivono. Quindi in questo caso mettiamo a 4, quindi guadagnano e spendono per mangiare. Non hanno risparmio, non hanno nulla, sono abbastanza sfruttati. Però, soddisfacendo i bisogni popolani, aumenti il morale. Praticamente noi andando qua in alto, possiamo vedere in basso che hanno dei pensieri negativi frequenti e sono quelli scritti in rosso, il liquore disgustoso e le rape in sapore. E per fare questo noi dovremo andare a migliorare la nostra produzione. Adesso vediamo. Qui ci viene specificato che in Nordland la circolazione del denaro viene in tre modi, tramite i migranti, le tasche dei migranti, il commercio con i vicini e la carovana sacra. La carovana sacra arriva ogni due, tre, due, tre giorni ed è la fonte di approvvigionamento principale di oro negli sacri, apprezzati dai mobili e dai immobili, dai nobili che fungono da valuta tra loro, libri e prigionieri. Due meccaniche ancora interessanti, ci sono i doni dei nobili e soprattutto i libri. E li andremo a vedere entrambi perché sono delle figate. Quando ho visto questa cosa ho detto, ma facciamo il video perché è una figata. Ora dobbiamo attendere che la carovana arrivi. Ora, io non so, eccola dovrebbe essere questa che sta arrivando qui adesso e cliccando sul commerciante noi abbiamo un modo di commerciare. Facciamo commerciare, vedete che hanno il simbolino. Faccio Dusevlad farà lui il commercio, andrà a commerciare e qui il tutorial ci dice ok dai vendi 30 unità di liquore io tengo premuto vedete che me ne va a vendere un tot vendiamo 30 di liquore e compriamo dei libri. E in questo caso compriamo, vedete ce ne sono tanti casa per i popolani compriamo il libro lupolo e birra. Commerciamo pagando forse una moneta in totale lo scambio veniva quasi alla pari. Ora che abbiamo un libro sulla coltivazione del lupolo e la produzione di birra possiamo studiare a biblioteca in biblioteca tramite il menu della conoscenza e quindi andiamo a vedere il menu della conoscenza. Praticamente la cosa bella è che il libro che possediamo lo possiamo usare e studiare apriamo il menu di conoscenza vedete economia abbiamo questo e abbiamo la possibilità di riscriverlo o di studiarlo e lo studierà l'ado che ha le capacità. La cosa bella è che praticamente alla morte di un personaggio vabbè se almeno un nobile ha letto il libro le abilità e gli effetti diventano disponibili per tutti ma alla morte di quel personaggio quindi quando morirà l'ado la conoscenza verrà perduta e questo ha senso per la riscrittura del libro ci chiederà un tot numero di ore la riscrittura comunque oltre ad amministrare gli edifici i nobili possono occuparsi di altri compiti se sono infelici si rifiuteranno di collaborare pare che uno di loro si è già infelice ecco guardate questo che è veramente bella come cosa praticamente il menu del personaggio mostra gli indicatori di stato principale lui praticamente ha un problema se andiamo qua vedete che ha desiderio straziante e infatti se torniamo indietro non ci dice desiderio di anelli sacri quindi questo io non sono sicuro che si no è il figlio è il figlio questo allora praticamente gli anelli nell'elenco risorse vedete che non ne ha non ha anelli sacri quindi noi possiamo fare clic su azione possiamo punirlo possiamo educarlo possiamo svagarlo caccia al lupo conversazione saggia sposa cioè diventa anche una sorta di Crusader Kings ricompensa clicchiamo sul re e possiamo accelerare la cosa cliccando su questo infatti lui prenderà il figlio da parte e gli dirà guarda tieni questo premio perché te lo meriti e lui soddisferà il suo desiderio vediamo infatti stanno andando qua nella stanza qui non so adesso parlano e probabilmente gli darà anche il ok lo sta premiando in questo momento lui dà a lui l'anello sacro e quindi avremo risolto per comparire anche nell'inventario immagino quindi ok stanno parlando infatti non so se lo sentite perché il volume dovrebbe essere abbastanza basso ma dovrebbe premiarlo ok gli anelli sacri come quelli elegiti al tuo manacca non possono essere prodotti ma solo acquistati dalla caravana in cambio di oro dato che vendere grandi quantità di merce alla caravana ne riduce il costo a volte è consigliabile commerciare con i vicini a prezzi più stabili per concludere un accordo commerciale con un vicino devi condividere nello stato o avere un rapporto amichevole con lui esistono molti modi per stringere amicizia con un monarca vicino ad esempio offrirgli un dono inviare un nobile in missione nella sua città o inviare il tuo monarca in una battuta di caccia in sua compagnia per dire questa è una cosa molto bella andremo sulla mappa globale cliccando su pulsante azione nobili monarca e faremo caccia quindi clicchiamo su questa questa è una cosa bellissima praticamente clicchiamo sul pulsante azione adesso io non so dove siamo noi assegna nobili ah ok questi sono i vicini ok non so quali siamo noi però io vado con il re perché c'è la regina l'erede ah quindi organizzeremo magari anche un matrimonio guardate tutte le abilità i talenti diciamo che hanno e scelgo caccia al lupo trascorre del tempo gioca a dadi seduci provoca un duello avvelena e praticamente su questo lato qui guardando anche questa segreti dei veleni quelle conoscenze alchemiche diventa molto crusader kings caccia al lupo allora stefano mera che è perfetto ok possiamo accelerare il tempo l'ado sta studiando intanto le ore continuano possiamo tornare indietro stefano dove è ah sta andando sta andando adesso quindi dovremmo vederlo uscire dalla mappa eccolo lì ah ok la nostra c'è scritto qua sta andando da solo e vanno a caccia insieme hanno completato sono tornati indietro quindi adesso fai clic azione su lì no ah ma ha aperto la mappa pensa a te no non volevo allora clicca lì azione commercio acquisto di liquore stefano invia il nobile con l'abilità commercio maggiore ok è sto tornando indietro e commercia acquista liquore assegna un nobile ok attende il completamento molti compi vabbè rispettabile sodale ti sfioro tutta la mia soddisfazione per la firma di un accordo commerciale tanto redditizio non tutti sono disposti a gettare le armi per impegnarsi nelle trattative firmato di mio pugno monarca gutter il rapporto con gutter è migliorato 10% i fondi ok è molto molto bellino sarà da approfondire apri il menu nel commercio qui vendi liquore al prezzo odierno quindi praticamente cosa dice accordi commerciali clicco lì ok c'è anche il commercio automaticamente ma non non lo fa fare allora praticamente invierai uno dei tuoi popolani disponibili alla città per portare a termine lo scambio quindi clicco qui mondo e poi i fuorileggi sono avvicinati furtivamente all'insediamento dobbiamo difenderci fortunatamente abbiamo tempo prima che attacchino e qua andiamo a vedere anche il menu dell'esercito praticamente il menu dell'esercito possiamo fare il pulsante aggiungi abbiamo pochi guerrieri ma vorremmo migliorare le nostre possibilità di vittoria quindi diventa anche un po' manor lords praticamente per nostra fortuna alcuni mercenari tendono a essere assoldati nei pressi della città ok assolda alcuni mercenari assumo questo 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 quanti? basta? basta? basta così no? allora ogni unità deve essere guidata da un nobile più elevata la sua abilità al comando maggiore sarà il morale dei soldati ok quindi che dobbiamo fare l'istituzione delle amiche i membri della squadra avverrà automaticamente i soldati con un'abilità maggiore riceveranno un ricopaggiamento di qualità superiore ok fai clic sul pulsante di creazione quindi creiamo un esercito ehm eh druzevlad quindi hai avuto il tuo anello ehm sei felice e adesso gli aggiungo la la squadra ok sposta anche il secondo nobile nella squadra ah la mamma quindi tecnicamente che carriera? ah ok no dobbiamo scegliere armare la squadra ok dando ok dando armi e armature usa barra spazzatrice ok no stiamo stiamo creando l'esercito la squadra sotto controllo diretto può essere gestita con il pulsante destro del mouse è il momento di attaccare una volta selezionata la squadra fai clic con il pulsante destro del mouse che è questo immagino e poi clicco lì ok gli sto mandando là attacca ma poi mi andava a velocità normale poi è arrivato anche l'ado tecnicamente io mi aspetto di vincere facile ok il loro capo è vinto i tuoi guerrieri cattureranno come ostaggi i superstiti che più tardi verranno portati all'insediamento di popolani il momento perfetto di lanciare un contraattacco passa la mappa globale praticamente abbiamo l'accampamento che è qui quindi praticamente noi siamo qua quindi clicco sull'insediamento di fuori legge seleziono assegna attacco nella mappa locale squadra di Dosevland e in via esercito e ci stanno andando credo sì sono tornato in città a fare non so cosa ma clicca sull'icona della battaglia perfetto ah ok qui diventa civilization invece dove possiamo concluderla in automatico possiamo comandarle personalmente oppure farla risolvere in automatico la gestiamo personalmente ok pulsante adesso spostare la squadra selezionata io vorrei selezionare la squadra ok e li muoviamo sul campo di battaglia sto aumentando la velocità ma non bisognerebbe ok attacchiamo vediamo che tutto l'accampamento vediamo come li sono un po' più distinguibili adesso ok abbiamo vinto abbiamo vinto nessun morto abbiamo catturato le tre persone accampamento distrutto questa è un'immagine molto alla crusader kings dico la verità abbiamo un bottino tre prigionieri e 75 oro torniamo in città allora durante il gioco potete trovare aiuto ok perfetto è completato le nazioni di vase continua allora praticamente qua abbiamo anche la dinastia quindi abbiamo che cosa possono fare e non fare sarà da approfondire anche questo restrizione ah ok restrizione la conoscenza dove possiamo andare a migliorare la loro fargli studiare le varie conoscenze e io vi dico la verità io sono sempre incuriosito da giochi di questo tipo ma tante volte non mi ci metto neanche perché sono veramente complessi piuttosto che sempre la stessa cosa questo gioco devo dire che è veramente tanto 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 figo uscirà il 18 di luglio non so se lo vedrete prima o dopo non so direvi ancora il prezzo io lo sto provando 5 giorni prima resterà in early access ancora un anno ma direi che contenuti ce ne sono già abbastanza e c'è già anche la lingua italiana quindi insomma che dire questo è Nordland mi raccomando ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video game play mi raccomando i commenti sotto perché questo è un gran gioco alla prossima ciao ciao